Automobili in Lamborghini ha inaugurato una nuova concessionaria in Italia, Lamborghini Napoli alla presenza di Stefan Winkerman, presidente e amministratore delegato di automobili Lamborghini S.P.A. Lo showroom, situato in via Pisciarelli, quarta traversa due via Daniano Pozzuoli, è gestito dal gruppo Funari, scelto come partner commerciale di riferimento sull'importante piazza napoletana per la profonda conoscenza del settore delle auto di lusso e per la sua grande professionalità. Il nono concessionario che abbiamo in Italia, naturalmente per noi è una città molto importante che copre il sud ovest dell'Italia, il capologo campano, la città del mezzogiorno tra le più importanti, per cui siamo molto orgogliosi di avere un partner come la famiglia Funari e sarà di buon auspicio, spero per loro essere i noni a bordo della rete italiana. Noi abbiamo lanciato adesso, poche settimane fa, la nuova Aventador, che è l'ultima nata della casa con 12 cilindri, è una vettura naturalmente che è la regina di tutte le super sportive, il cliente tipo, diciamo, dell'acquirente di una Lamborghini, il socio è uomo, è sui 40 anni, dai 40 in su, è un imprenditore, è un amante delle vetture sportive, del made in Italy, perché dobbiamo parlare anche del mondo, perché la fetta che noi vendiamo in Italia è ben al di sotto del 10%, siamo presenti in 45 paesi del mondo, il cui il made in Italy per queste persone è molto importante. È stato l'ultimo ingresso di un marchio glorioso come Lamborghini, che si va ad aggiungere coerentemente con la nostra scelta di qualche anno fa alla scuderia, come diceva lei. È coerente perché è un marchio mitico nella storia dell'auto, un marchio alto di gamma, dove siamo abituati ad operare, e che quindi si va ad inserire nella logica del multibrand. Multibrand vuol dire creare un gruppo nel mondo dell'auto che ha concessionario ufficiale per ciascun marchio e che cerca all'interno dell'azienda, del gruppo, di fare le maggiori sinergie possibili nel backstage e di avere naturalmente nel rispetto degli standard e del corporate identity di ciascun brand. Questo rispetto alla situazione di mercato attuale, che è molto difficile, in un settore dove la marginalità è veramente molto bassa, la logica del gruppo fa sì che tu riesca a trovare delle sinergie, fare delle economie di scala importanti e che non sempre riescono per dei dealer che hanno soltanto un brand. Grazie. Grazie.